e da il di Ferlat e poi il rinvio di Wooters Van Basten vince un rimpallo, su di lui si porta Creer Wooters ecco Van Basten, ballo il suo dribbling poi viene con Van Basten ancora da Van Schipp con una palla controllata ancora Rijkaard, ecco stavolta il passaggio suggestivo per Van Basten che va subito ancora un lancio per Van Basten Van Basten che entra in area di rigore poi Viren intanto c'è questa iniziativa ho l'andese, colto di testa vincente proprio di Van Basten Van Schipp il suo traversone al centro il colto di testa in perfetta coordinazione di Van Basten rivediamo ancora Van Schipp Van Basten che ruba il tempo all'inna ancora Van Basten dona il suo controllo dona anche la conversione l'altro dribbling Van Basten al momento si aggrediscono in qualsiasi parte del campo ecco una palla per Van Basten ancora Van Basten in posizione di alla destra ecco il suo traversone molto bello ecco il suo lungo lancio ancora su Van Basten che ha una facilità di comando il calcio di punizione a favore del locomotive di Lipsia calcio di punizione per l'Ajax Buren Van Basten Rijka molto bene poi il tocco di Wuters tempo scaduto Van Basten lavora ancora un buon pallone e poi ha questa ottima intuizione con 30 stazioni ma gliolandesi insistono ancora doppia crambola con ultimo che vi ripeto conduce per 1-0 ecco Van Basten tocca l'indietro a beneficio di Wuters palla buona per Van Basten Van Basten viene attaccato e poi c'è la Van Basten di prima Van Basten Van Basten recupera un buon pallone da avanti in maniera spumeggiante dimostra di gradire poco questo atteggiamento rinunciatario Van Basten sempre Van Basten mantiene il passaggio della palla quantunque attaccato da un ugolo di avronto ha conferito maggiore vivacità all'attacco del abbastanza deludente fino a questo momento questo secondo tempo con Ajax sulla difensiva ecco Van Basten splendido il suo lavoro sempre Van Basten in possesso di palla e largo Rijka in azione ecco il suo traversone Van Basten questo ritorno offensivo della Komotiv di Lipsia Van Basten sempre Van Basten si gira fa filtrare fuori il pallone ancora per che da Rijkaard questo è Van Basten se ne ripinte di Van Basten Van Basten retrocesso a dare le coste che vedete in quadrata le coi di Giorgio